buongiorno da obiettivo news oggi 29 marzo il venerdì santo oggi anche la giornata nazionale della frittata dell'omelette a differenza dell'omelette francese nella frittata gli elementi vengono da subito mescolati insieme poi cotti anziché essere aggiunti alla fine e assolutamente non viene ripiegata sicuramente conosciamo qualche modo di dire dedicato a questa pietanza non si può fare la frittata senza rompere le uova e le motive di chissà che per raggiungere uno scopo bisogna anche rinunciare a qualcosa mentre il non rigirare la frittata è fisso in qualsiasi litigio e di certo qualche volta avrete fatto la frittata un bel eufemismo quando si tratta di combinare guai la frittata anche protagonista di eventi leggendari come la frittata da mille uova preparata per il re carlo quinto dopo aver sconfitto il turco barbarossa insieme a tutto su esercito oggi anche la giornata internazionale della torta black forest sontuosa torta di origine tedesca preparata a base di cioccolato panna montata e kirsch guarnita con scale di cioccolato ciliegie candite e ciuffetti di panna montata trenati in questo giorno abbiamo terence il 1939 e del merc person 1964 tra i scomparsi ricordiamo enzo jennacci 2013